Ah bene amici, l'ho preso, tutt'altro umore questo unboxing, ma direi di tenere lo stesso mood che mi è piaciuto, quindi no tagli, no cut, quello che succede, succede, noi quattro amici al bar, vediamo cosa c'è qua dentro, cosa c'è qua dentro? Allora, 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 proiettore Mi Smart Compact Projector e poi il Mi Watch, ma li ho già provati io questi, per il nostro amico Andrea, ecco per te un regalo da parte nostra, per ringraziare il supporto e per celebrare insieme il lancio del nuovissimo Mi 11, ah ok, ma allora questo vuol dire che lo posso dire, e se non lo potevo dire, no lo posso dire, lo posso dire, perché oggi sono stato al Mi Store di Milano, e mi hanno detto, e quindi mi hanno spedito sta roba, ok, quindi sono venuto in mente al Mi Store di Milano, vabbè, chiusa la polemicozza, le promozioni che ci saranno per il lancio del Mi 11, vi ricordo, lancio primo marzo e solo ai Mi Store online e fisici, quindi no Mi.com, ma Mi Store, sì, un po' un casino, eh, andare a comprare online su Xiaomi, non sai mai dove compri, entrambi sono shop ufficiali, ma comunque solo a Mi Store, 899 euro, che è il prezzo del Mi 11 con il Mi Watch in omaggio, invece c'è la promo, cioè paghi solo l'iva se compri Mi 11 più il TV 43 pollici, quindi il TV lo paghi 72 euro, quindi Mi 11 più TV 43 pollici, quant'è la somma, non lo so, non c'è scritto, comunque 72 euro invece che 399, e poi questo è interessante, praticamente il Mi Projector, quindi si paga solo l'iva al 22%, quindi 108 euro, il proiettore di Xiaomi si è comprato assieme al Mi 11, tra l'altro Mi 11 che ho ripreso in mano, proprio per fare un po' di story, per riprovarlo in vista del lancio, e devo dire, gran bel telefono, però sapete che sto proiettorino mi scimmia. Cara Xiaomi, ti sei guadagnato la recensione di un proiettorino dopo l'X Jimmy, che avevo provato ed era un prodotto interessante, questo dovrebbe essere un po' su quella falsariga, forse non ha la batteria, ma dovrebbe avere, insomma, lo studio e lo provo perché ho visto che c'era stato interesse su quel proiettore, e quindi proverò anche questo di Xiaomi, no, il Mi Watch l'ho già provato, quindi vi ricordo, primo marzo, promo ai Mi Store, grazie ragazzi dell'omaggio, oh, omaggio, c'è scritto nuovo regalo, legge qua, regalo, quindi queste cose me le tengo. Ecco, da dove parto? Una busta a caso, vediamo un po' cosa c'è qua dentro, mi sa che è uno di voi, questo, Hotel BVC, ah no, ah, ah, ok, grazie. Ringrazio pubblicamente il Best Western di Roma, Cine Music Hotel, perché mi ha recuperato l'alimentatore che ormai davo per perso. E qua, ragazzi, i video servono, i video servono, vi racconto questo piccolo aneddoto. Allora, torno a casa, tiro fuori il computer, tiro fuori tutto, mutande, giacca, camicia, magliette, maglioni, dico, cavolo, l'alimentatore del Mac, l'alimentatore, dove l'ho lasciato? Non c'era più in borsa, non c'era più nello zaino, ho girato. Poi, ragazzi, dovete sapere che quando si girano gli esperienziali, perché ho fatto il vlog versus Telephone 250, 1250, ho un po' la testa su quello che devo riprendere, su quello che faccio, così, e quindi lascio in giro la roba. E dove e come ho scoperto che lui era in camera d'albergo, non perché l'albergo mi ha chiamato, perché tra l'altro la camera d'albergo era pronotata, non ha nome mio, in realtà comunque i documenti li ho dati, perché gli aveva pronotati la produzione. Vabbè, comunque, montando il video di quell'esperienziale, ho visto, cavolo, è rimasto attaccato là, l'ho visto nel video, alla presa. Allora chiamo l'hotel e fanno sì, in effetti l'abbiamo trovato e me l'hanno spedito. Ragazzi, grazie, veramente, mi avete salvato la vita, anche se nel frattempo io avevo comprato un caricabatterie, però lo ammetto, confesso, cara Apple, mi spiace, ma sono andato per comprarlo. In realtà sono anche andato all'Apple Store per comprare il caricabatterie, solo che, tempo di Covid, Apple Store puoi comprare solo se hai l'appuntamento, quindi non puoi comprare se non hai l'appuntamento, se non hai già comprato il ritiro, insomma ero lì, mi sono girato le balle, sono tornato indietro, ho guardato quanto costava, più di 100€, perché ovviamente c'è attaccato anche il cavo. Apple ti vende questo coso qua, 96W, perché io ho il MacBook Pro, a 85€ mi pare, più 25€ per questo cavo, cioè questo cavo 25€. E allora sono andato su Amazon e ho visto che a 36 c'era un taroccone, l'ho comprato, che in realtà funziona anche abbastanza bene, sì, non ha assolutamente la cura dell'originale, però devo dire che va bene. Bene, cosa c'è qua dentro? Sto scardinando tutto, Vitti, ciao Andrea, grazie per averci permesso di condividere con te il nostro prodotto. Ok, ho capito chi siete, ma avete detto che me lo mandavate. Come vi ho detto nel nostro scambio di email, ho qualche dubbio su questo dispositivo, vi dico cos'è, qua c'è poi tutto lo spiegone. Praticamente è un piccolo battery saver, praticamente lui va a staccare la ricarica quando il telefono raggiunge il 100%, ingegnerizzato se non so sbaglio da... Ma ragazzi è personalizzato, bellissimo, ma grazie, ma love, vi love, però i dubbi rimangono, cioè lui va a staccare la carica quando il telefono arriva al 100%. In realtà c'è una circuiteria interna di telefoni che non stacca la carica ma la mantiene quando arriva al 100%, quindi è vero che un minimo di carica gliela da sempre, però questo influisce sulla durata della batteria, loro dicono di sì. Io il punto di domanda, anzi ve lo dico subito, secondo me questo doveva essere un apparecchietto che staccava la batteria quando la carica arriva all'80%, perché noi sappiamo che se le batterie carichiamo sempre all'80% e non lo facciamo mai scaricare sotto al 10-15% durano di più, molti più cicli. Quindi questo apparecchietto invece stacca il 100%, è vero che ci sono dei benefici, ho studiato tutto, ma è anche vero che ultimamente questi benefici sono, diciamo, inferiori, perché i telefoni smart capiscono anche quando li mettiamo in carica, le nostre abitudini di carica e quindi questo processo già loro lo fanno internamente grazie al software. Però mi hanno detto i ragazzi vitti che ci stanno studiando, non so se posso dire anche questo, no, io dico tutto ormai, dietro le quinte, ormai gli unboxing, ragazzi, sono veramente dei libri aperti, e mi hanno detto che stanno studiando un apparato che staccherà la carica all'80% e questa sarà una gran, gran figata. Altra piccola critica è che c'è la USB di tipo A, se io ho un alimentatore che esce, tipo quello del Mac, con la tipo C, non cozza, quindi devo mettere un adattatore di qua, un altro adattatore di qua se ho la tipo C e quindi forse un prodotto che nasce da una idea, ci sta, da un'esigenza assolutamente che c'è di preservare la durata di carica delle batterie, forse la versione 2 sarà quella che, ragazzi, vi farà spaccare. Comunque complimenti per l'idea imprenditoriale e grazie di avermi mandato il tutto. Qua non so assolutamente che cavolo c'è dentro perché è un pacco assolutamente e completamente anonimo, tra l'altro è arrivato con un corriere espresso, super espresso, super chiuso, quindi lo apriamo insieme. Molti di voi hanno scritto che vi piacerebbe vedere degli unboxing live su Twitch. Ammazza che super confezio. Allora facciamo così perché mi sa che funziona così questo pacco. Potrebbe essere una buona idea. Non posso fare unboxing live su Twitch perché se capita quello che è capitato adesso in live è un casino fotonico perché c'è un super embargo su quella cosa. Ho firmato col sangue, mamma mia, mamma, lunedì primo, voi lo vedrete il 3 perché c'è questo embargo, ma lunedì 1 io andrò a fare una figata, ma figata non solo con la F maiuscola, ma tutto, ata, ata grossa così, brum, 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 anzi, perché è un plurifrazionato, ma è anche un qualcosa che... Ho tagliato la tovaglietta. Ma dai, cioè questo taglierino lo sto usando da mille unboxing, la lama non si è ancora sledinata e ho tagliato la tovaglietta. Lo so ragazzi, questa tovaglietta è tristissima, è veramente brutta. Sotto c'è una scrivania bellissima in ferraccio. Ma cos'è arrivato? Pro Evolution Soccer 5, chi è che me lo manda? Speriamo che ne causi dei tuoi gradimenti. Aspettiamo su Amazon. Videogioco, grazie, ragazzi, grazie, ma per la PlayStation 2, ma non c'è neanche una firma? Boh, vabbè. Non so che ringraziare, non so cosa farmi di Pro Evolution Soccer, ma è arrivata questa cosa, così, assolutamente a caso. Sì, non c'era tantissima roba da provare, in realtà. Anche perché mi aspetta un altro pacco da Amazon. Devo andare da Gennaro. Mi sa che si è dimenticato di darmi un pacco. Ma lo sapevo, lo sapevo che il portiere si era dimenticato un pacco. Scusate il taglio, ma oggi è domani per me, ma ieri per voi. Vabbè, perdo sempre lo spazio-tempo negli unboxing. Perché aspettavo con ansia questo pacco? Perché ho comprato due meter che mi consentiranno di misurare i powerbank, anche quelli tipo C, in maniera un po' più precisa. Dovrebbero arrivarmi dei pacchi di powerbank, degli accessori. Insomma, ho forse un po' trascurato in questo ultimo periodo l'accessoristica. E allora, e allora, forse con questi, tra l'altro anche due la pellicina. Ah, sì, ah, sì, fa un po' poco, però c'è anche dietro, sì, dimmi che c'è anche dietro, sì. Ragazzi, ma voi non avete idea di quanto sia libidinoso togliere le pellicole a qualsiasi cosa che mi capiti sotto mano? E allora, allora, ragazzi, ne ho preso due perché uno è un po' più preciso, dice anche la tipologia di ricarica, se è quick charge, se è super charge, eccetera, eccetera. Questo però è solamente USB-C. E poi ho preso questo che è multifunzione. Quindi, 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 visto che ho qua l'alimentatore che mi è tornato originale Apple, e nel frattempo ho anche recuperato quello tarocco e potremmo giocare al trova le differenze, e in realtà è decisamente più leggero quello tarocco, decisamente fatto meno bene perché, guardate, anche qua il tipocino va in fondo, rimane sempre un po' fuori, però con 35-36 euro, tra l'altro tirando un attimo si sgancia subito, è compreso però il cavo, sto parlando troppo. Altro taglietto, prendo il Mac, attacco gli alimentatori e provo subito a vedere come funzionano e l'alimentatore tarocco quanto differisce in erogazione rispetto all'alimentatore originale. No, vabbè, raga, ma mi si è aperto un mondo con questo testerino USB. Guardate, ho scoperto che è anche Bluetooth e invia all'applicazione i dati. In questo momento il caricabatterie, che è quello originale, sta dando 81 Watt al mio Mac. Adesso faccio uno switch e vediamo quello tarocco come si comporta. Tra l'altro nel frattempo ho provato anche questo, che funziona esattamente alla stessa maniera, dà un po' meno informazioni, ma è più flessibile perché ha vari ingressi, ha anche l'USB di tipo A e anche la micro USB, che si può attaccare così alla USB standard. Insomma, un sacco di adattatori, però questo è fichissimo. E qua adesso vediamo la lettura di 80 Watt, 81, 79, 81, quindi tendenzialmente eroga la stessa energia. Quindi ci siamo, vedremo nel tempo se esploderà tutto comunque, se con 36 euro se la giocherà con l'alimentatore originale. Ma questo affarettino è fantastico, guardate, poi schiacciando questo pulsante si possono cambiare le schermate. Qua si può vedere voltaggio, amperaggio e i Watt, qua le informazioni su da quanto tempo sta andando e quanta energia sta caricando nelle batterie, lo possiamo vedere anche da qua, ovviamente da quando si resetta, cioè da quando si spegne, riaccende e si attacca il caricabatterie. E qua ci sono i settaggi per settare la retroilluminazione, per quanto tempo deve stare acceso dopo che non si tocca niente, temperatura in Celsius o Fahrenheit, la connessione USB e il Bluetooth on o off. Ragazzi, mi si è praticamente aperto un mondo bellissimo. Cioè, ah, si può anche ruotare il display? No, vabbè, ma si può essere così, scimmie esaltati per un affarettino di questo tipo, che vi dice anche il caricabatterie supporta la carica Qualcomm 2, la Quick Charge 3, la carica veloce di Huawei. Questo è troppo... no, è troppo piccolo, raga. Quest'ultimo minuto non riesco a vederlo, vabbè, lo studierò meglio, ma sono esaltato. Vabbè, ci vediamo alla prova di tutto quello che ho testato. Ciao, alla prossima. Cosa ci sarà di segreto in quel pacco? Lo vedrete mercoledì, o forse anche no, martedì, il 2, mi hanno detto che il 2 lo posso dire. E l'1, figata. Vabbè, ciao.